Questo è Mr. Black e questa è l'isola subquintile, un'isola meravigliosa abitata da streghe, bambini e altri mostri. Mr. Black sembra un vampiro come tanti, eppure rasconde un terribile serbretti. E' un'isola meravigliosa! Adoro il colore rosa, mi piace che tutto quello che lo circonda sia rosa. La sua besta viola ridosa, le barbotture di planella, i muri del salone, perfino lo sbottello del figlio. E' il suo colore preferito in assoluto? Mangia Marshmallow, sorbetti alla fracola, cupcake alla rosa, caramelle formose all'antone. A quanto pare non esistono molti cibi sani del colore preferito di Mr. Black. A quanto pare non esistono molti cibi sani del colore preferito di Mr. Black. Come potete immaginare, la vita di Mr. Black non è semplice su quest'isola. Ma è in pubblico, deve fingere di stoggio il naso con aia di busta davanti al colore sfumo tua di rosa. E naturalmente non può mai, ma assolutamente mai, ubicare le lucine a casa sua. Ma è solo così che Mr. Black è riuscito a mantenere il suo segreto. E ci è riuscito totalmente bene che nessuno può sospita nemmeno per un attimo colore di suo interno. Rosa totale, neanche da discutere. Rosa totale, non è una scola per un attimo colore di lunga, I dici mi hanno sorpreso Mr. Black che è stato scoperto, che però c'è scusa rabbia, che è crudello e lo prende in giro e qualcuno minaccia di denunciarlo. Alla fine, i vicini perdono delle misure drastiche. Non ci sarà più niente di rotta nella casa di Mr. Black. Né alla tazza per la scolazione, nemmeno il suo crassino della verità, nello spazzolino da denti. Né pure i denti, niente, per non farai della servibile sorte riservata alla tua alza. Povre Mr. Black! Prendono le misure drastiche di Mr. Black diventare un tec e taciturno silenzioso, solitare tutti i vicini, lo amirano, riusciti. Prendono le misure drastiche di Mr. Black. che viene un altro strumento in destra dell'incendio. Aiuto! 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 Si arrivo! Deciam che a lungo non è caduto, vedete la minuzione sconfori, terrorizzati, trai un mistero bleche che a cui mistero bleche a cui l'incendio non fa nel caldo ne credo, a bordo del suo grande mantello nero può stare vicino e sorridere. Quello che scopre è incredibile con la base stravaganzi di ogni tipo. Il suo servizio sarà sempre di più. Il libro di Mr. Black niente è più come prima. Il libro di Mr. Black niente è più come prima. Il libro di Mr. Black niente è più come prima. Il libro di Mr. Black non sarà mai più come prima. del libro di questo senso.